Nuovamente interrotto il processo Ethernet con una decisione che ha stupito molti. Il giurigio infatti ha sollevato questione di costituzionalità sulla base di uno dei principi più noti in giurisprudenza. Non si può essere processati due volte per lo stesso fatto. Stefan Schmidaini era stato prosciolto per prescrizione dalla precedente accusa di disastro ambientale doloso, mentre qui deve rispondere di omicidio volontario per la morte provocata da malattie di amianto di 258 persone. Secondo la difesa la seconda causa sarebbe soltanto una ripetizione della precedente. Il Gubbompieri ha rilevato che sulla materia esistono profonde divergenze fra la giurisprudenza italiana e quella della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Se la questione sarà accolta sarà persino necessario riscrivere un articolo del codice di procedura penale. La consulta dovrà dunque pronunciarsi e fare luce su una complicatissima questione di diritto, ma è comunque difficile che si sappia qualcosa prima del prossimo anno. Anche se come si è detto in molti sono rimasti stupiti da questo ennesimo colpo di scena, la procura non ha accolto la notizia in modo totalmente negativo. I PM Raffaele Guarigniello e Gianfranco Colace potranno infatti sfruttare il periodo di rinvio per raggiungere al processo nuove accuse legate ad altri 94 decessi. Se la questione fosse accolta, ha detto sconsolato Bruno Pesce dell'Associazione delle Vittime a Feva, sarebbe una specie di colpo di Stato, una specie di franchigia per gli omicidi. Se vieni assolto per un caso, non verrai nemmeno processato per gli altri. La strada è in salita, ma noi continueremo a perseverare, ha detto il sindaco di Casale Monferrato, Titi Palazzetti, mentre Camilla Fabri, senatore del PD, presidente della Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, ribadisce la necessità di approvare subito il disegno di legge che prevede l'ammissione delle vittime dell'amianto e dei loro familiari al patrocinio a spese dello Stato. Il nostro è un grido di dolore, emesso per conto di un paese, Casale Monferrato, che conta ogni giorno le proprie vittime sacrificali. Ha detto Marco Damore, protagonista di Gomorra e ora impegnato sul film, sul caso Eternit. L'attore è voluto intervenire sulla notizia. Quel grido di dolore, dice Damore, continuerà almeno per il prossimo ventennio. L'enorme disastro ambientale e la conseguente tragedia umana che la produzione di Eternit ha generato rendono quanto mai necessaria la definizione, una volta per tutte, delle responsabilità penali.